Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nelle ultime ore è diventato virale un video girato da un influencer americano a New York con protagonista Gu Pequeno. Il content creator non conosce il rapper e gli chiede cosa fa nella vita. Considerato uno dei migliori rapper italiani, Gu Pequeno è pressoché sconosciuto a New York. La prova ci arriva da un video che un influencer americano, Ted Zar, ha registrato lo scorso maggio per le strade della Grande Mela. Il content creator è uno di quelli che ferma gente a caso per fare delle domande intime e tra le sue grinfie è finito anche l'artista nostrano. Ciao, che cosa fai nella vita? ha chiesto l'influencer americano a Gu. In un primo momento il rapper non ha risposto. Poi vista l'insistenza, sei un rapper? Siete rapper? replica dicendo di essere un artista. Ted Zar non lo ha riconosciuto. O forse non lo conosce proprio. Ma alla fine della fiera gli ha chiesto i biglietti per il suo concerto. Ti esibisci al Gramercy? Allora sei uno grande. Il video è stato girato nei giorni in cui Gu era a New York per il suo primo concerto, tenutosi il 12 maggio presso il Gramercy Theater. L'influencer americano però ha postato il video solo nelle scorse ore. Il rapper, che nel filmato viene chiamato Guere, ha prontamente commentato «Cicco è Guere». Questo episodio ha suscitato curiosità e divertimento sui social media, con molti fan che hanno commentato la situazione in modo ironico. La mancanza di riconoscimento da parte dell'influencer americano ha reso Gu Pequeno ancora più misterioso e affascinante agli occhi del pubblico.